pranzetto nel mio posto preferito interno perché si schiatta ok ok stavo facendo la storia ma la metterò lo stesso e lo so che ti mancherò tanto ora che non ci vediamo più non so come farei a vivere senza di me vabbè come fanno anche tutti i miei amici e le mie amiche che non mi vedono per qualche mesetto hai ragione hai ragione mi mancherai come fai come fai a non farti mancare la fiorde come si fa come si fa vabbè andiamo a pranzare che dici dai mangiamoci le pennette quelle che ti dibuono prima commissione della giornata finita caldo caldo non ciò posso fare sì sono lamentosa ma troppo caldo e ora faccio le altre 450 mila a dopo o nipotini belli ma almeno una volta a settimana può mancarci un paolo masella workout no perché se no non ci manteniamo fit chiudiamo le foto del giorno ciao